Una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 in direzione Roma, a causa di un veicolo in avaria, ci sono 5 km di coda tra Aglio e Calenzano. Per traffico intenso, code in uscita a Firenze Sud. In direzione Bologna, code per traffico intenso tra Valdarno e Cisareggiello. Sulla A11 per viabilità esterna che non riceve in direzione Firenze, un km di coda tra Sesto e Firenze per Itola. Code a tratti per traffico intenso tra Prato Ovest e Bivio per la 1. Sulla Fipilì ancora per traffico intenso, rallentamenti tra Scandicci e Firenze Scandicci in direzione Firenze. La viabilità cittadina a Firenze per la sostituzione di una condotta fognaria a chiusura di via De Vespucci e di via Stazione delle Cascine. Moversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!